Palermo così come nel primo tempo aveva protestato il Genoa per il presunto fallo su Borriello Occhio a Divaio, falla per Leon, la tiene lì, Leon, sinistro, Leon, 2-1 Genoa, partita cambiata nel giro di 5 minuti Chi ha testa, chi usa la testa, il corpo non soffre, perché è stato bravissimo Divaio lì per intervenire E' stato molto bene, nel primo tempo non è quasi mai servito, Fontana sta litigando, sta discutendo con Zacando Eh sì, la discussione tra Fontana e Zaccardo, particolarmente piccato il portiere del Palermo che già si era lamentato con la barriera sul go dell'1-1 Qui Leon prende benissimo il tempo nell'anticipo su Capuano, forse si lamenta con Zaccardo che non riesce a dare la chiusura necessaria Eh sì, ma in realtà derobbiava lì in chiusura, Zaccardo era nella prima parte dell'azione Ma no, andava proprio Zaccardo, vedi Zaccardo fa la diagonale, prova a disturbarsi, ha toccato Capuano Con la coscia, sì, con la coscia, ha toccato Manuel, ha toccato